Che c'è, papà? Sentite, io ho deciso di trasferirmi per qualche tempo a casa di Hub. Voglio allenarlo un po' per farlo migliorare. Cosa? Ehi, un momento! Goku! Non so quanti anni mi ci vorranno, ma prometto che prima o poi tornerò a casa. Mi auguro che comprendiate. C'è colta di sorpresa, papà. Parti così all'improvviso. Addio! No, aspetta! Ti prego, Goku! Ma che succede? Sul serio te ne vai? No, no! Nonnino, aspetta! Nonnino, per favore, aspetta! Che cosa c'è, panno? Ma è vero? È vero che te ne andrai via? Eh, sì. No, non voglio, non voglio! Come faccio stare senza il mio nonnino? Non andare, non andare! Su, 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 non piangere, tesoro! Non sparirò per sempre nel nulla. Di tanto in tanto verrò a farvi una visitina. Promesso! Sì, parola d'onore. E ora basta piangere. Va bene, ecco! Brava, così mi piaci. E voi due non trascurate gli allenamenti, mi raccomando, perché la responsabilità di proteggere la terra e di mantenere la pace è anche sulle vostre spalle. Certo! Lo sai, nonno? Anch'io voglio allenarmi tanto, tanto. Così diventerò grande e forte come te, contento! Bravissima, così si fa! Beh, allora... Vegeta, ti chiedo scusa per aver truccato un po' questo torneo, ma tu sai quanto ci tenessi. Beh, in ogni caso né tu né io né Hub potremmo scatenare la nostra potenza in una manifestazione come questa, non credi? Sì, hai ragione. A presto, amico. È stato un fulmine al ciel sereno. Ha parlato di allenamenti. Chissà cosa avrà in mente. Mi ha lasciata di nuovo. Muffa, si può sapere che cosa gli ha preso improvvisamente? Da un po' di tempo a questa parte pensa soltanto a se stesso. Sapete, erano molti anni che non vedevo Goku così contento. Già, è vero. Ehi, tu non sai dove stanno andando? No, non ne ho proprio idea. Sì, devo riconoscerlo, Karot. Sei uno che ha fegato. Sai cosa penso? Che non vuoi allenare quel marmocchio solo per prepararlo a difendere la Terra, ma anche per poterti migliorare a tua volta.